attesa e fermento nella nostra provincia per l'imminente svolgimento del 36esimo rally della val di nievole montalbano in programma per l'8 e 9 maggio all'arciano con l'organizzazione curata dalla scuderia jolly racing team in collaborazione con laser prom 015 ed art motorsport 2.0 un format nuovo snello e con una logistica decisamente poco impegnativa particolari che hanno richiamato l'interesse di piloti stranieri e che garantiranno alla nostra provincia un importante incentivo dal punto di vista ricettivo l'organizzazione per questo 2021 ha deciso di muoversi con la solidarietà al centro dell'iniziativa vi sarà l'ospedale san jacopo di pistoia in prima battuta parte della tassa di iscrizione che i concorrenti consegneranno per lo shakedown il test con le vetture da gara alla vigilia del rally sarà devoluta alla struttura ospedaliera del capoluogo oltre alla realizzazione di una speciale t-shirt venduta nei giorni di gara ed anche in questo caso l'intero incasso sarà consegnato in beneficenza sempre all'ospedale pistoiese sarà una gara a titolazione nazionale per festeggiare il proprio ritorno dopo la pausa forzata del 2020 l'intero programma dell'evento sarà snello ed anche le prove speciali saranno concentrate in un fazzoletto di territorio che dalla val di nievole guarda le pendici del montalbano il disegno del percorso prevede lo sfruttare al massimo le strade che saranno le prove speciali prevedendo più versioni più varianti sul tema in modo tale anche da creare quante meno difficoltà possibile al territorio ed ai suoi abitanti in totale avremo quindi 6 prove speciali al centro di una diretta streaming che proietterà i rally val di nievole montalbano a livello nazionale grazie a tutti